Signor Presidente, abbiamo lavorato alla proposta congiunta di risoluzione sulla mortalità materna, tenendo conto che l'obiettivo numero 5, la riduzione della mortalità materna del 75% entro il 2015, è ben lontano dall'essere raggiunta e richiede una forte e concreta iniziativa della comunità internazionale, di cui l'Europa dei diritti e dei valori non può che farsi interprete e garante. Abbiamo qui preso atto delle rassicuranti dichiarazioni di Messia Jouet e di Madame Ferrero, ma occorre passare rapidamente dalle dichiarazioni ai fatti. Del resto la mortalità materna, insieme a quella infantile, è l'indicatore più importante del livello di sviluppo umano ed è inaccettabile, come è stato detto, che ancora oggi più di mezzo milione di donne muore ogni anno per il parto a causa della gravidanza. Come ricordato da tutti, la maggior parte di queste donne vive in Africa subsahariana, dove si registra un dicesso ogni minuto e, come è stato detto, il raffronto con le donne che vivono in Occidente per lo stesso rischio è di 1 su 3.700. Queste cifre sono rese ancora più drammatiche dagli incoraggianti progressi raggiunti negli stessi anni da alcuni Paesi al reddito medio, in Asia orientale, sud-est asiatico, Nord America e America Latina e Nord Africa, a dimostrazione che questa ripugnante situazione può essere superata. La risoluzione risulta, perciò, a nostro avviso, tempestiva, articolata e completa e individua strategie idonee ad affrontare questa vera e propria emergenza sanitaria globale, riconoscendo che l'accesso al livello adeguato di assistenza sanitaria è un diritto umano fondamentale. Concludendo, auspico, che l'apprezzabile compromesso raggiunto tra i gruppi su un tema così lacerante possa trovare la più larga convergenza dell'Assemblea e che l'approvazione della risoluzione congiunta solleciti tutte le nostre istituzioni e ogni Paese ad azioni concrete di investimenti adeguati per infrastrutture, trasporti, presidi sanitari, formazione degli operatori, educazione, prevenzione e politiche di emancipazione della donna per raggiungere nel 2015 questo obiettivo importante di civiltà. Grazie. Grazie a tutti.